Allora, la signorina ha scelto del pesce, capisci a me? Signore ha scelto del pesce. Cosa ha scelto? Cosa ha scelto? Passo parola. Non piaceva cosa? Maglio vigne. Ma no, cerca di fare. Io avevo optato per la cucchiazza normale, però visto che stai gioendo, meglio bagnata, quindi opto pure io per la cucchiazza di mare, grazie. Ovvina 7 euro litri, 6 euro litri, della casa. Mi prendi la cameriera che la devo ammazzare, mi prendi la cameriera.